Questo player ha ricevuto un regalo invisibile, vi starete chiedendo come si fa a ricevere un regalo invisibile Prima di iniziare però ragazzi vi lascio in descrizione il link di Nexus Perché rimangono gli ultimi due giorni raga, solo 48 ore Per questi prezzi assurdi degli account Guardate qua ragazzi che prezzi letteralmente incredibili Non ci perdiamo in chiacchiere, iniziamo subito, let's go In video di oggi andremo a vedere questo player che ha ricevuto un regalo completamente invisibile da parte di Fortnite Ma specialmente andremo a vedere come riscattare questo regalo invisibile Perché è un qualcosa di troppo divertente ed è uno sfizio che dobbiamo toglierci tutti quanti Avevo promesso che avrei regalato gli account ma oggi ragazzi visto che molti me lo chiedevano Dobbiamo fare un regalo perché sono uscite delle skin all'interno dello shop Che stanno piacendo veramente a tantissimo Vai tube clicca nei negozi oggetti Selezioniamo l'ultimo iscritto, l'ultimo che ha messo like Ha condiviso il video, ha commentato e l'ha guardato dall'inizio alla fine E andiamo a regalare come prima skin direi Gendarme ombra, no quella nera, quella nera Questa ragazzi è veramente fantastica Vai compra come regalo Io ringrazio ragazzi tutti quanti per il supporto Eccolo lo vedo là sotto Roberto1893 Eccolo vedo Me l'ho addirittura segnato Vai acquista un dono e... Dono inviato Il primo regalo è andato con successo Ma tube non ci fregniamo qua perché Voglio dare un'altra skin Vai vai torna nello shop, torna nello shop No no indietro, indietro, indietro Sali sopra, sali sopra, sali sopra Ecco ovviamente se abbiamo regalato quella nera Dobbiamo dare anche quella bianca Quindi vai Gendarme e spettri Compra come regalo Ringraziamo anche lui ragazzi per il supporto Fu così di social Non so che nome strano sia Vai 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 Acquista come dono Eeeh Dono inviato Ok ragazzi Dove avrei fatto i regali? Passiamo subito a questo regalo invisibile Come sapete Quando andiamo ad acquistare il crew pass Ogni mese dovremo ricevere una skin Dei picconi e delle V-Bucks Ma dovete sapere che non sempre così Perché Fortnite purtroppo Essendo un gioco che ha molti bug Dopo aver acquistato l'ultimo crew pack raga Proprio il giorno In cui i server avevano smesso di funzionare O almeno due ore prima che i server Smettessero di funzionare Guardate quale è stata la sua sorpresa Meno 3 Meno 2 Meno 1 Ecco qua raga Un regalo completamente visibile Infatti c'è scritto Equipaggia Vedi il crew legacy E prossimo Praticamente ragazzi Non ha ricevuto nulla Direi che questa è proprio truffa È proprio una truffa Ma tranquilli perché dopo Praticamente 5 giorni No 3 giorni Gli hanno ridato diciamo Le ricompense che gli aspettavano Comunque è veramente troppo divertente E voi vorreste ricevere un regalo invisibile Da parte di Fortnite? Fatemi sapere qua sotto nei commenti Noi ci becchiamo domani Con un prossimo video Ore 19 e un quarto Bella boys Ciao